ciao a tutti volevo ringraziare simonetta cervelli per il bellissimo evento di ieri a roma 25 novembre una data importante c'è stato questo evento magistralmente organizzato dal settimo municipio e da simonetta cervelli a largo don bosco piazza corà è stato un momento di grande commozione e anche di grande condivisione abbiamo sfilato ci sono stati demonologhi teatrali per ricordare purtroppo in questo giorno tutte coloro che ormai non hanno più voce e proprio per questo motivo noi abbiamo il dovere di dare la voce a queste donne che sono state meno fortunate di noi e di dare la speranza a tutte noi e alle nuove generazioni perché insieme ce la possiamo fare e possiamo prevenire anticipare certe situazioni difficili ecco volevo dire semplicemente questo sono stata molto bene è stato un grande momento quindi grazie a simonetta cervelli grazie alle mie compagne a tutte le mie artiste e cerchiamo di essere unite perché insieme ce la possiamo fare grazie